. Uomini e donne, Tina lascia la trasmissione? La rivelazione shock VinZuiden. Uomini e donne anticipazioni, Tina Cipollari fatta fuori dalla trasmissione di Canale 5. La presenza di Cancelletto Tina Cipollari a uomini e donne potrebbe essere a rischio, video? La storica opinionista del dating show di Maria De Filippi potrebbe abbandonare la trasmissione di Canale 5? E questa la domanda che da oggi circola in rete e sui social e che sta facendo tremare i fan dellopinionista che da anni ormai è una delle colonne portanti del talk show sentimentale della De Filippi, in grado di assicurare un vero e proprio show con i suoi interventi. In primis quelli contro la dama torinese Gemma Galgani, diventata ormai la sua nemica giurata. Tina Cipollari fatta fuori da Maria De Filippi? Le anticipazioni delle ultime ore su Cancelletto Uomini e donne rivelano che recentemente Maria De Filippi avrebbe perso le staffe nei confronti di uno dei suoi opinionisti. A riportare la clamorosa indiscrezione è stato il sempre ben informato Alberto Dandolo sulle pagine di oggi e su quelle di Dagospia, dove appunto si legge che Maria non avrebbe gradito il comportamento di uno degli opinionisti che fa parte della trasmissione. Immediata la preoccupazione dei fan di Tina Cipollari, i quali per un momento hanno temuto che la De Filippi si fosse scocciata della vulcanica opinionista e che addirittura avesse deciso di cacciarla dalla sua trasmissione del pomeriggio. In passato, infatti, la De Filippi aveva ammonito Tina in diverse interviste per il suo comportamento un po' troppo esuberante in primisse nei confronti di Gemma. Nelle ultime registrazioni di Uomini e donne, inoltre, Tina ha dato il meglio di sé nei confronti della dama torinese e addirittura vedremo che si presenterà in studio con un gigolo che ha il compito di offrire una notte di passione sfrenata alla dama. La verità su Tina Cipollari e cosa succederà. Ma qual è la verità dei fatti? Tina potrebbe essere cacciata per davvero da uomini e donne? Le anticipazioni ufficiali o sul programma rivelano che proprio oggi pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del Trono Over e durante la diretta Facebook abbiamo visto che la Cipollari era presente in studio al fianco di Gianni Sperti. A questo punto, quindi, non si esclude che la De Filippi possa essere adirata o forse delusa dal comportamento di Mario Serpa, video, la new entry del Trono Classico, che come ben saprete è tornato di nuovo con Claudio Sona dopo che quest'ultimo avrebbe preso in giro la redazione del programma di Canale 5 tenendo nascosta la sua attresca clandestina con l'ex Juan ai tempi del Trono Gay. Ciao!